ben ritornati allora curioso di sapere che cos'è questo apparecchio questo apparecchio è un erim è un acronimo di un apparecchio energetico inventato da egina dopo alcuni progressi su altri strumenti ha iniziato a sviluppare questo grazie a tutti andiamo a vedere il kit di simone come si compone questo qui l'avete compreso e la dima per fare con questo le nostre chiocciole anche se non lo schema non l'avete visto e questi sono i supporti per costruire il nostro interno di questo cerchio come avete visto nello schema sono tre parti la parte superiore con le chiocciole e la parte inferiore sostenuto da un alberino che noi ce l'abbiamo in alluminio poi piano piano andremo a vedere in un'altra inquadratura come si va a costruire iniziate vederlo no vi faccio vedere anche come si costruiscono le chiocciole in questo caso questo andrà sopra qua ok intanto mettiamo l'alberino così e questo è già la prima parte che potremo anche fissare dopo per comodità in effetti lo fisseremo dopo questa è la prima parte del montaggio questi sono uguali viti sempre nell'alluminio andremo a montare velocemente adesso magari tutti i passaggi non ve li faccio assistere perché questo li dobbiamo andare a fissare quando ci saranno le nostre chiocciole finite dovremo creare un annellino con le chiocciole finite questo è un assemblaggio veloce ok bellissimo fatto veramente bene cambiamo inquadratura e ci vediamo dopo ok allora abbiamo visto questo questo premontaggio diciamo lo lasciamo qui queste sono le nostre viti con questo con questa configurazione per non rovinare il filo una volta scelta la parte qui si può scegliere con un pendolo con un biotensor in questo caso l'ho già scelto anche con la kinesiologia troverete magari qualcosa sul riequilibrio del campo energetico anche sulla pagina amici di ghina dove c'è un filmato come utilizzare il corpo se va avanti o va indietro quella cosa è giusto e sbagliata o diciamo ancora più semplice sì o no a secondo del corpo se vai in avanti che non si o che va indietro a uno in questo caso questo è l'inizio cioè la base nel mondo le stanno facendo di tutti i colori noi siamo dieci anni che cerchiamo di far capire alle persone come si fanno le chiocciole di ghina qualcuno l'ha capito qualcuno un po meno comunque andiamo avanti questa è la chiocciola che andiamo a fare scegliamo 5 spire in questo caso non tagliamo il filo io ho lasciato qui le fascette così la matassa non si distrugge è importante anche questo e quindi dobbiamo andare a far tante qua ce ne sono tre per tre non è chiocciole allora bisogna partire non subito per farla chiocciola ma lasciando un pezzettino per fare l'anello che rimane qui dentro io per comodità provo a farlo adesso anche se il filo è comunque è impegnativo perché è grosso ho usato questa protezione perché l'avete tutti la prossima volta cercherò di usare qualcosa di più tecnico gomma termorestringente o gomma gomma isolante dei fili elettrici proviamo subito ecco l'ho fatto troppo piccolo sono stato troppo stretto questo caso prendo un cacciavite lo apro che mi interessa a farvi vedere come si costruisce ora io parto da qui in questo caso ci sono due tipi di chiocciole una un tipo sull'esterno e un tipo all'interno più una in più che va qui sotto è quello un po più particolare ma nella seconda parte vi faremo vedere come si fa allora questo qui c'ha subito il gancio quando andremo a fare la chiocciola e se voi immaginatevola così qua il punto di fissaggio di ancoraggio nel cerchio questa parte qui facciamo questo che ancoraggio ok poi l'andremo a tagliare qui dentro ok sicuro che c'è una misura particolare però intanto andiamo avanti così se no ci perdiamo la chiocciola è dalla punta verso il basso in senso orario ma noi la stiamo avvolgendo in senso anti orario perché essendo un apparecchio che lavora anche con l'intenzione fisica quantistica poi possiamo discusire quanto volete ha bisogno anche dell'intento nel maestro questa cosa qui non la sottovalutava mai controlliamo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 si parte da qui ok questo è l'ottavo punto ma è la settima spira delle 7 lo vado a tagliare qua sopra in questo caso perché è quella più semplice di queste sono due laterali più due laterali sono uguali col gancio di fianco per smontarla ok può succedere che la posso piegare un pochettino occhio si mette a posto oppure paragone ok 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 Grazie a tutti.